Colpo di scena al Grande Fratello. Un nuovo concorrente potrebbe entrare a breve nella casa più spiata d'Italia, stando agli ultimi rumor. Sui social non si sta facendo altro che parlare di lui, che è un ex uomini e donne nonché ex fidanzato di una geffina. Quindi, si potrebbe creare una dinamica molto interessante nel reality show di Alfonso Signorini. Al Grande Fratello i nuovi arrivi potrebbero non essere finiti. Dopo l'eliminazione di Clarissa Barthe e il ritiro di Ilaria Clemente che ha scoperto di essere incinta, il nuovo concorrente arriverebbe dal dating show di Maria De Filippi. In passato è stato protagonista a OED e avrebbe avuto un rapporto con un'attuale geffina. Un utente sul social network Decimo ha riferito questa informazione sul Grande Fratello, visto che il suo nome è uscito a galla con più insistenza negli ultimi giorni. Il nuovo concorrente sarebbe l'ex fidanzato di Shaila Gatta, come detto già avvolto noto di Canale 5, che sorprenderebbe non poco l'ex velina di striscia la notizia. Su X è stato scritto, in che senso Zarino prossimo concorrente. Rivivremo questa scena? Ed è stata postata un'immagine di lui nel programma Uomini e Donne. Alessandro Zarino è stato tronista del programma di Maria e qui conobbe Veronica Burchielli. Con Shaila successivamente avrebbe avuto un flirt e ora si ritroverebbe con lei al GF. Alessandro Zarino lavora come insegnante di CrossFit. Ci sarebbe tanta curiosità per capire come sarebbe accolto dall'ex fidanzata.